Investire per il sociale. Il comune di Venafro punta a venire incontro alle classi più deboli per il confronto alla povertà e un centro sociale ed educativo per minori in difficoltà dove possano svolgersi attività che spaziano da quelle socioeducative e culturali a quelle ricreative e sportive, come sottolinea l'assessore Angela Maria Tommasone. Beh diciamo che per il sociale ci sono tanti tanti progetti che stiamo portando avanti. Intanto abbiamo comunque la dimora, cioè abbiamo un alloggio per i senza fissa dimora che abbiamo già inaugurato dove ci sono stati già delle famiglie che abbiamo comunque supportato in caso chiaramente di disagio economico ma anche di fragilità. Abbiamo poi due progetti in essere. Uno riguarda i bambini dai 5 ai 10 anni e dai 13 ai 17. Progetto Luna Blu. Qui per il contrasto alla povertà educativa con lo sport. Infatti abbiamo fatto una convenzione con il basket di Venafro e poi ci sono anche gli spazi socioeducativi proprio per i bambini con scarso apprendimento per dare la possibilità a questi ragazzi anche in età diciamo infantile perché si tratta sempre di bambini dell'infanzia di cominciare ad avere un po' di autostima per se stessi soprattutto per quelli in fragilità. Grazie a tutti.